Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Siamo arrivati oggi al quinto appuntamento della rubrica 30 mesi di libri, che in realtà è un videotag più che una rubrica, però dura diciamo più di due anni perché ogni mese c'è una domanda alla quale rispondere. Siamo arrivati alla quinta domanda che è qual è il libro più lungo che tu abbia mai letto? Io vi propongo una saga perché diciamo che essendo una saga in quattro libri è sicuramente la più lunga che io abbia letto ed è la saga di Lauren Kate. I libri sono Fallen, che è il primo, poi c'è Torment, poi c'è Passion e Rapture, che è l'ultimo. Io li ho letti tutti e quattro e devo dire che pur essendo secondo me pensati per un pubblico un po' più giovane rispetto a me, mi sono piaciuti. Sono dei libri di genere fantasy e è un libro che mi è piaciuto perché gira tutto intorno comunque ad una storia d'amore. Io non voglio fare uno spoiler raccontandovi i dettagli perché se non lo avete letto ovviamente sarebbe un peccato. Ho comunque fatto la recensione di questa saga, quindi magari in descrizione vi lascio il link con il video in cui parlo più nel dettaglio appunto di questa saga. Però brevemente è una storia d'amore tormentata perché è appunto condannata ad una maledizione. Ci sono questi due ragazzi, Daniel e Lucinda, che ogni 17 anni si rincontrano, si rinnamorano, si baciano e appena si baciano lei muore. E lui praticamente la insegue attraverso tutte queste sue vite, finché una volta si incontrano, si baciano e questa volta lei non muore. E quindi insomma provano da qui a cercare di capire se si può rompere questa maledizione, quindi ci saranno insomma tutte le loro avventure. Ed è una saga che mi è piaciuta, devo dire che mi è piaciuta. Sicuramente questa è la saga più lunga che io abbia letto perché io poi non sono una grande lettrice di saghe, in realtà non ne ho lette molte, però questa è la più lunga. Se, come vi dicevo, se volete appunto saperne qualcosa di più andate a vedere il video in cui ho fatto la recensione, ve lo lascio nelle schede, ho linkato in descrizione. Vi do appuntamento al prossimo mese con la sesta domanda, mi raccomando continuate a seguirmi, mettete un like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!